Ciao tesorine! Allora, oggi finalmente vi mostro quello che ho ricevuto per il mio compleanno. Come potete vedere ho cambiato postazione perché finalmente ho anch'io un cavalletto come si deve, quindi quelli professionali, che mi è stato regalato dai miei amici, ovviamente sotto suggerimento. Lo so, non è bello sapere o comunque avere già l'idea di quello che si può scartare, però quando si ha bisogno di qualcosa, se sei lì nel Natale, nel compleanno, in qualche festa, si cerca sempre di indirizzare la persona o le persone, quindi sono contentissima veramente, finalmente, riesco a fare delle inquadrature decenti e forse così adesso posso fare anche dei video outfit da sola senza farmi aiutare o aspettare che ci sia qualcuno a riprendermi perché preferisco fare tutto da me. Quindi contentissima, ovviamente non ve lo posso mostrare, però vi faccio apparire in questo momento la foto, anche se il cavalletto lo vedete chiuso, però giusto così per farvi vedere che veramente l'ho ricevuto. Grazie ancora ai miei amici perché veramente mi serviva tantissimo. Altra cosa che ho ricevuto sono questi stivaletti qua, ve ne mostro uno perché se no non si capisce niente, fatti così in questo color marrone-cammello, un mix perché non è né chiaro né scuro, con la zeppa interna come va ormai di moda da due anni, e poi c'è questo finto pelo che tiene caldo il piede, la gamba. Visti così non sembrano un granché, però una volta indossati vi devo dire che sono magnifici, anche qua magari poi se riesco vi inserisco una foto da indossati perché slanciano veramente tantissimo la gamba, poi io non sono una batussa, quindi favolosi perché appunto mi slanciano tantissimo, poi io portando praticamente sempre gonne e vestitini, che ha quel tocco un po' chic glam del momento, veramente contentissima. Poi ho ricevuto un combo particolare, diciamo così, non da tutti i giorni sicuramente, ed è questo cappello super invernale, qua è in peluche, qua è in un velluto bello spesso, maculato, appunto non da tutti i giorni, sono per le cose un po' strambe, un po' diverse dalla moda e da tutto quello che si trova fuori, però non ero mai arrivata a questi livelli, comunque vedremo quando riuscirò a indossarlo, ora vi mostro come sta. A parte che mi appiattisce i miei capelli che ho appena lavato e sono belli vaporosi, comunque il concetto è questo, vedremo perché vedermi così mi fa un attimo senso. E appunto in combo c'era la sua sciarpina, questa invece è un po' più facile, più portabile, diciamo così, sempre è dello stesso genere, stesso materiale, bella morbida e anche bella calda, quindi questa penso che la sfrutterò abbastanza. Il cappello col bacco vedremo perché è un po' eccessivo, un po' eccentrico. Torniamo in noi e ho ricevuto della Dolce & Gabbana un bellissimo orologio, questo qua specchiato, quindi vedete tutto il riflesso, scusate, fatto così, colore argento in acciaio, abbastanza pesantuccio, questo ovviamente da utilizzare nelle occasioni speciali, comunque nel weekend e non sicuramente quando vado a lavorare perché devo essere pratica e comoda. Questo era in abbinamento al cappello e sciarpa ed è un semplicissimo specchietto fatto così, color oro. Questo braccialettino qua con tutti questi charms e murrine, e con questo c'erano anche queste murrine, che non so come mostrarvi, però comunque sono tutte murrine da inserire o in quel braccialetto o in altri che poi creerò. Della Deborah ho ricevuto questa palettina qua, molto comoda anche da portarsi in giro, a forma di cagnolino perché io sapete che ho una passione per i cani, si presenta così in color viola con il brillantino sull'occhio, si apre qua e all'interno c'è lo specchietto, poi due applicatori doppi che sicuramente non userò perché sono microscopici, e poi qua ci sono i, aspettate ok perché c'è la carta non voglio toglierla, ci sono i gloss, ci sono gli ombretti, la terra, il blush, e devo dire che ha dei colori portabili anche da tutti i giorni, quindi contentissima del mio cagnolino. Di Swarovski ho ricevuto un braccialetto che purtroppo ora non ho perché appunto mi son fatta la doccia e quindi l'ho dovuto togliere, però di solito ce l'ho fisso, comunque è un semplicissimo braccialettino con le perline color lilla, veramente molto carino, poi al massimo mi metto la foto. Di questo marchio qua, che in Italia non è ancora uscito, però se volete andate a dare un'occhiata sul sito, troppo carino questo volantino con la bimba, e appunto all'interno mostra i prodotti che hanno di questo marchio, molto originale devo dire, sono contentissima, e ho ricevuto questo meravigliosissimo, scusate il termine che non esiste, però mi piace un sacco, porta monetine, e vi devo dire che è molto comodo perché è davvero leggero, sì, forse solo questa targhettina qua dove c'è scritto il marchio pesa, tra virgolette, un po' di più, però mi piace un sacco. Poi c'è questa bambolina, che secondo me mi somiglia un po', non so perché, ma tutte quelle che vedo disegnate more mi somigliano, è una mia idea eccentrica. Comunque, questa bambolina favolosa, in stile anni 20, retro, liberty, che sono anni che amo tantissimo, e all'interno è fatta così, con la scritta del marchio, e poi due scompartimenti appunto per le monetine. All'interno c'è anche il bigliettino, perché l'ho voluto lasciare per mostrarvelo, proprio perché mi piace tantissimo, con quest'altra bambolina qua, e poi dietro, vabbè, c'è scritto in cinese, quindi si capisce niente, però mi piace tantissimo, questo penso che lo userò come segnalibro, io uso tutto quello che mi piace. In questo sacchettino qua, con scritto il marchio, Sweet England, ho ricevuto questo favolosissimo portafoto, ecco qua, oggi tutto un riflesso, comunque doppio, perché c'è sia da questo lato che da quest'altro, quindi se un giorno voglio le foto che ci sono di qua, le metto di qua, stessa cosa di là, ma va, che cosa geniale, è molto carino, perché si apre tipo portafoglio per inserire la foto, devo ammettere che mi piacciono tantissimo questi disegni, queste carte antiche, pensavo di tenerle, perché mi fa molto vintage, chic, non potete capire quanto è pesante questo portafoto, e praticamente qua c'è il marchio e tutta la spiegazione cina, praticamente è una collezione limitata, quindi ci sono soltanto alcuni pezzi in tutto il mondo, ispirata ad un'alta tradizione, tramandata nel tempo e nobilitata dall'uso di tecniche del secolo scorso, quindi contentissima di avere un pezzo storico, diciamo così. L'altra cosa è questo cerchiettino qua, molto semplice, molto comodo, perché l'ho già indossato e mi piace veramente tantissimo, con questo fiocchettino qua, e questa fantasia scozzese, veramente molto molto bello, ora ve lo mostro indossato, così vi fate un'idea di come mi sta, ed eccolo qua, sapete che io amo i cerchietti, poi se hanno qualcosina di ingombrante, tra virgolette, sono ancora più contenta, yeah! Poi vabbè, questo è un più però, già che ci sono ve lo mostro, è una saponetta fatta artigianalmente alla violetta, che mi hanno preso i miei, sono stati in Francia, e vi devo dire che ha un profumo buonissimo, infatti penso che non lo utilizzerò come saponetta, ma come profumatore di cassetti e armadio, perché è una cosa paradisiaca. Poi, sempre dalla Francia, questo favolosissimo magnete con scritto Paris, sapete che io sono una patita, se non si era capito, con questa bambolina, anche questo è uno stile vintage anni, qua siamo più negli anni 40 direi, comunque mi piace un sacchissimo rotondo, così in latta, e la cosa carina è che dietro si può poi utilizzare come apri lattina, apri bottiglia, adesso non so bene, però penso che lo metterò nella mia collezione di magneti, e non lo userò, perché io ho paura di rovinare le cose, quindi deve stare lì tranquillo, con tutti gli altri magneti, veramente bellissimo. Ho ricevuto un paio di leggings per l'inverno, fatti così, io di solito leggings li ho soltanto neri o marrone scuro, perché così riesco ad abbinarli con tutto, però questi, devo dire che essendo una fantasia bianca, nera e grigia, dovrei comunque riuscire ad abbinarla con un capo nero, comodissimi questi qua da usare tutti i giorni, sono fatti tipo di lana morbidosa, quindi non stringono neanche la gamba, e fanno più da pantalone, diciamo così. Concludiamo con gli autoregali, devo dire che quest'anno sono stata bravissima, perché sì, ho comprato un bel pezzo costoso, però sono stata brava, proprio perché ho preso poca roba, poca roba è utile, diciamo così, adesso vedrete, perché è un po' un punto interrogativo. Poi ovviamente ho ricevuto anche dei soldi dai parenti, che però ho voluto non utilizzare, ma tenerli da parte, per quando mi giro di prendere qualcosa, voi sapete che voglio comprarmi la cassettiera dell'IKEA, e la toilette, quella con lo specchio, i cassettini e tutto quanto, quindi ho deciso di tenerli da parte, quei soldini, proprio per comprarmi questi spizzi, un po' da addorna. Sul sito di Madina ho preso qualcosina, proprio perché c'era l'offerta delle spedizioni gratis, e dei super saldi, adesso non so se ci sono ancora, andate a sbirciare, però sono andata nella sezione outlet, infatti il totale delle cose che adesso vi mostrerò, hanno fatto 10 euro, veramente pochissimo, sapete che Madina ha dei prezzi abbastanza alti, secondo me, su certe cose è un po' esagerato, però quando fanno gli sconti, o la sezione outlet, bisogna andare a vedere perché ci sono veramente delle super offerte. Ho preso un rossettino, Velvet Lipstick 04, ed è così, molto nude, naturale, da tutti i giorni. Poi sapete che sono una patita di eyeliner, quindi ho preso questo eyeliner semplicissimo, nero liquido, pennellino fatto così, simile a quello che fa Avon dell'Extra Rusting, e quello di Essence, per intenderci, più o meno, questo è più morbido rispetto a quello di Essence. due matite labbra, anche se io, sinceramente, non le uso, ultimamente ho deciso che il rossetto mi dona, o comunque mi completa un po' il viso, quindi lo sto utilizzando molto di più. Allora ho detto, ma sì, visto che sono in offerta, mi prendo anche le matite. E sono il Look Sleep Liner 09, questo qua, il Look Sleep Liner 06, che sembra uguale, però questo è più tendente al marrone, mentre l'altro più tendente al rosso. E ultimo, sempre rimanendo in tema labbra, ho preso il pennellino che ho ancora sigillato, che è lo 06. E poi il super mega regalone che mi sono fatta è una borsa, perché non poteva mancare una borsa tra i miei regali di compleanno. Ed è questa qua, in vera pelle, infatti è di una morbidezza che è indescrivibile, poi ha proprio la puzza della pelle che mi piace tantissimo. Fatta in questo modo qua, è un bauletto, adesso lo vedete così, perché è piena, la uso praticamente sempre, con queste nappine qua, sempre fatte in pelle. è un colore verde, scuro, militare, che si abbina praticamente a tutto. Sono veramente contentissima, perché è un colore che mi mancava. Ha la tracolla, che all'interno me la porto sempre dietro, perché non si sa mai se vado a fare tipo shopping o spesa, e da tante ore che sono in giro mi piazzo la tracolla, e sono tranquilla. però la cosa carina è che praticamente, vabbè, vi faccio vedere di qua, praticamente ai lati e si apre, diventa così, cioè vedete, diventa enorme, grandissima, infatti qua ci posso anche mettere il mio portatile, ci posso mettere qualsiasi cosa, perché dentro è capientissimo, guardate, bellissima, veramente, sono contenta di averla trovata, di averla comprata, anche se l'ho paghicchiata abbastanza, però mi sono tolta allo sfizio, sapete che io sono una maniaca delle borse, e quindi quando ne vedo una che mi colpisce, che mi piace, o per la forma o per il materiale, e in questo caso era per tutti e due i motivi, non posso non cedere, soprattutto se appunto c'è il mio compleanno, un Natale di mezzo, una festa che mi invoglia di più. Se era un giorno normale, forse questa borsa sarebbe rimasta lì, però in queste occasioni non si può rifiutare assolutamente quando la cosa ti attira, ti chiama e ti dice vieni che devi diventare la mia padrona. All'interno, vabbè adesso appunto la vedete piena, comunque c'è questo taschino sempre in pelle per il cellulare che però l'iPhone non entra e quindi ci metto di solito le chiavi di casa così ce l'ho subito lì a portata e ci sono le solite taschine, è veramente bellissima e capientissima, quindi contentissima per rimanere in tema issima. Ok, scusate le luci, scusate se ci sarà una specie di rimbombo, però sono venuta in bagno perché come vi ho detto nel mio ultimo vlog purtroppo c'era una parte di questo video dove l'audio era sfalsato e quindi ho deciso di ripetere il tutto, tanto siamo quasi alla fine, state tranquilla, avevo detto che erano poche le cose ma mi sa che mi sono sbagliata. comunque andiamo avanti con i regali, ora non ce l'ho qua con me però vi metterò una foto da indossato, ho ricevuto dal mio nonnino un vestito che ho comprato io, praticamente l'ho scelto io, mi ha dato i soldini e io sono andata a comprarlo proprio appositamente per la festa che dovevo fare con i miei amici e quindi questa è la foto. altra cosa di abbigliamento è una giacca che ho comprato ovviamente insieme ai miei genitori perché quando si tratta di abbigliamento è sempre meglio andare insieme è brutto sapere prima il regalo però in questo caso era una cosa che mi serviva e questo stato è veramente carinissimo è un giaccone super invernale un piumino proprio di piuma d'oca vera con questo pelo sintetico ovviamente però è molto morbido lo stesso non è di quelli che stanno lì e fanno schifo è molto carino perché il cappuccio si può togliere e si può togliere anche solo il pelo proprio a strati ed è caldissimo è comodissimo morbido non è di quelli che ti senti tutto rigido e non riesci neanche a muovere il braccio a fare così e la particolarità vabbè ci sono le taschine qua sul davanti poi anche laterali si chiude con la cerniera non ci sono i bottoni la particolarità è la cintura perché davanti poi risulta così veramente bellissima fatta di questo colore come la giacca oro e veramente questo dettaglio mi piace un sacchissimo poi comoda perché si riesce a chiudere tranquillamente in questo modo e quindi favolosa questa collana qua di perle coltivate che come potete notare sta molto corta a me piace davvero tantissimo si sono sulle punte e questa si abbina anche d'inverno soprattutto secondo me a questi maglioni ai dolce vita a questi vestitini molto semplici questa dà il suo tocco poi questa viene direttamente dall'armadio di mia nonna è una borsettina vintage bellissima è un gioiello una borsa gioiello fatta tutta di perline peccato la luce ma oggi piove pure il tempo fa schifo ed è meravigliosa perché con la luce riflette tantissimo poi mi piace anche il suo manico fatto così e semplicemente si apre in questo modo adesso c'è la carta perché non si rovini con all'interno questo raso sempre color oro bellissima questa per una cerimonia anche per una festa una serata particolare la vedo benissimo mi piace troppo l'ho detto che mi piace sì mi piace da parte di Ilaria ho ricevuto delle cosine veramente bellissime io ti ringrazio ancora tantissimo Eli sei stata super gentile un bacione e sono stata contentissima perché mi ha regalato la mia prima diciamo così perché ho giusto una tart l'unica cosa che avevo della Yankee Candle la mia prima Yankee Candle fatta così rosa ovviamente chissà come mai e la profumazione è questa qua Summer Scoop che profuma principalmente di fragola almeno io sento questo non vedo l'ora di usarla perché veramente ne senti parlare sempre bene di queste cose però come ho già detto a tante di voi non riesco a comprarle non riesco a trovarle perché la coin qua non esiste quando vado a Torino o sono da un'altra parte o quando sono alla ricerca non la trovo e quindi lascio sempre perdere questo set qui della essence per fare la nail art con la carta quindi c'è il paper print manicure questa è la soluzione da applicare per diciamo incollare la paper fatta di queste fantasie qua e per finire mi ha fatto questo set da viaggio potete trovare se vi interessa dalle profumerie Mario No se si dice così comunque questa qua al suo interno ci sono questi prodottini qua c'è questo che è un bagno schiuma poi c'è il latte corpo poi qua il gel doccia e questo è un lip gloss ultima cosa e poi basta vi lascio andare se siete arrivate fino qua vi ringrazio già tantissimo perché questo video veramente sarà lunghissimo però è anche un video chiacchiericcio un video un video mix e spero vi faccia piacere vi tengo compagnia soprattutto ho deciso di inserire un pacchettino che mi è arrivato proprio stamattina e visto che è un regalo non è un regalo di compleanno però è un regalo che mi ha fatto una di voi una ragazza che mi segue ecco qua il pacchettino qua c'è la sua letterina che ho già letto ovviamente e ti ringrazio tantissimo Emi perché sei davvero dolcissima qua sotto nell'info box andate a vedere perché oltre a tutte le informazioni che vi lascio ci sono anche i contatti di Emi questo qua è il suo bigliettino da visita così andate a sbirciare un po' io mi sono subito innamorata delle sue creazioni quindi grazie per esserti presentata perché così ho potuto conoscerti ho potuto conoscere quello che riescono a creare le tue mani e sei davvero bravissima davvero continua così perché tu sì che farai strada nel mondo delle creazioni meno male che ha detto che mi metteva giusto due cose infatti quando ho aperto il sacchettino era pieno zeppo e non dovevi non dovevi veramente anche perché mi piace tutto quindi il primo sacchettino che vi mostro è questo qua con all'interno due paia di orecchini e lei in ogni sacchettino mi ha messo il bigliettino di quello che c'è e la spiegazione anche dei materiali il primo paio di orecchini è questo qua ora ve ne mostro uno per praticità non si vede il colore comunque ovviamente rosa un rosa trasparente con del bianco e queste più grandi fucsia e sono bellissimi poi sono davvero leggeri quindi veramente grazie e poi mi ha messo questi qua a lobo sono base nera con questa rosa rosa piccoli piccoli ma proprio ben fatti nel dettaglio quindi brava bisogna dirlo brava questo coricione bianco e nero favoloso queste rose sono tutte sberluccicanti qua ho usato il fimo effetto sicuramente e poi ci sono i cuoricini questi fiorellini qua per applicarli nelle mie creazioni e questo mix di perline strepitose qui mi ha messo un po' di minuteria che fa sempre comodo quindi ci sono delle monachelle per fare gli orecchini e poi mix di basi per orecchini e dei charms un anello fatto con la tecnica wire e poi questo bracciale in cuoio rosa con questa chiusura comodissima ultimo sacchettino qua diciamo che è stata una sorpresa perché io dovevo stare zitta perché in uno dei suoi video ho detto che mi piacevano un sacco queste due cose e lei me le ha messe ma io non l'ho detto perché volevo che me le mettesse io l'ho detto perché mi hanno colpito mi sono veramente piaciute tantissimo proprio per la tecnica perché è bravissima e sto parlando di questa collana bella lunga che avevo prima però ovviamente non potevo mostrarvela perché io appena ho aperto il pacco mi sono provata le cose e guardate che meraviglia è questo ciondolo che lei ha chiamato trottola poi altra collanina sempre fatta con una tecnica per me impossibile da fare guardate che meraviglia all'interno sembra bucato invece c'è questa pietra fucsia meravigliosa anche questa molto sfaccettata che con la luce sembra un diamante veramente bravissima andate a vedere la sua pagina facebook andate qua sotto che vi lascio i suoi contatti quindi ti ringrazio ancora tantissimo ringrazio ancora Ilaria ringrazio ancora tutte le persone che il 29 ottobre ormai tempo e tempo fa mi ha fatto gli auguri sia su facebook che su instagram che qua su youtube ovunque veramente grazie con questo è veramente tutto scusate se ho dovuto cambiare location se mi sono cambiata perché è un giorno diverso da prima però sono riuscita a mettere tutto insieme quindi tutto il mio compleanno al completo e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao